Siamo a Vaveno e siamo per regalarvi emozioni colorate, emozioni rombanti che appunto prendono il nome di Rally dei Due Raghi, Rally dell'Ossolo, anche l'Ubio che da qualche anno ha un successo incredibile, la prima gara organizzata di fatto dalla famiglia Zagani da queste parti ed è con piacere che siamo pronti a vedere che... Andiamo 50 a destra, il cartello a sinistra 5 è lunga, apre poco 20, sinistra 4 più lunga gira, apre poco 100, destra 4 50 a destra 4 lunga E 100 a vista, ai cartelli a sinistra 5 meno, 50 E 100 a vista Sin, sinistra 3 più apre poco Continua 5, 10, destra 4 più 10, ritarda poco, sinistra 4 per destra 5 meno 20, sinistra 5 meno fidati, 50 a destra e sinistra 3 più Stavo parlando di Ivoriani, per Nicola Pugliani, polivi di classe, polivi di giuppo Devo ringraziare la farmacia Salvo Sparma che ci ha permesso di essere qua, Sponfer Zinux e la Sviteria Sponfer Zinux e la Sviteria